Ehi, fa attenzione. Questo è tuo. È importante non tenere mai il dito sul grilletto, a meno che tu non debba sparare a qualcuno. E quando ti capita? 31.70, ci hanno raffinato! Premilo finché non sei a secco. Tempare! Siamo sotto la pioggia di fuoco! Tieni gli occhi aperti, avremo addosso tutti i poliziotti del paese. Big Nick! Il vero gangster poliziotto in carne e ossa! Abbiamo un problema. Nella Major Crimes. Dovete conoscere il nemico. Tutte le bande più toste che circolano le hanno fatte fuori loro. Non sono uomini da gang. Comunque sia, sono drogati di rapine. Prima o poi avranno bisogno della dose. Cambio di programma, alziamo la posta. La riserva federale è come Fort Knox. In ogni momento ci sono dai 500 agli 800 miliardi di dollari lì dentro. In ogni millimetro, telecamere e rilevatori di movimento. L'unica banca mai rapinata. E noi la castigheremo. Muoviamoci! Lo sai che vuol dire? Che io sono il capo di una gang, solo che noi abbiamo i distintivi. In parole povere, sei fottuto. Sembriamo i tipi che arrestano. Ti ammanetto e ti trascino in centrale. O ti spariamo e basta. Boom! Non siete voi cattivi. Siamo noi. unnete contro le hati. Per noi. Siamo noi. Salute.